Permesso, ormai siamo affezionati, qui abbiamo un amico dietro le quinte della granita cubana. Cubana? Cubana. Creata da te o ti sei ispirata qualcuno? Intanto però io già dico che il melone a me non piace, però l'assaggeremo. A te ragazzi? Certo, qui abbiamo la pesca. Intanto invitiamo però gli amici su YouTube, non fate questa cosa del coltello, solo i professionisti possono fare questi cocktail. Quindi chi è professionista, non imitate l'amico Giovanni, qui è Raloce, stabilimento militare, tutti i giorni aperto, cocktail per tutti, ovviamente è chiaro, prezzi scontati, militari. Qui abbiamo la pesca, da quanto tempo fai questo tipo di attività? Vent'anni. Chiuso qui hai un tuo punto di riferimento? Fashion Bar, Piazza Meucci. Allora, per tutti gli amici che vogliono ballare, divertirsi tutte le sere? Venerdì e sabato. No, venerdì e sabato abbiamo sempre te che fai cocktail. Abbiamo detto, scusa, Piazza? Piazza Meucci, Fashion Bar. Fashion Bar, Piazza Meucci, Piane Marconi. Piazza Meucci, Piane Marconi. Piramide. Piramide. Daniele, conosci Piazza Meucci? Piazza Meucci. No, Meucci, Piramide, Piramide, Piane Marconi. E come si chiama il posto? Fashion Bar. Fashion Bar. Ma c'è un museo davanti? No, no, no. C'è nonna, mia nonna davanti, quindi io. C'è la nonna, la nonna. 97 anni. 97 anni, ma anche si può conoscere durante... Tantica mia nonna. Ma è lì al Fashion? C'è il tefettuccino e mia nonna. Ma è lì al Fashion? No, no. 97 anni. 97 anni. Nonna Concetta. Nonna Concetta, andiamo a dargli un saluto ovviamente. Ciao nonna Concetta. E viva. Ha un nipote di grande carisma, di grande comunicazione. Senti, io vorrei assaggiare un albicocco. Ce l'hai? Ma è sempre maschio? Sì, sì, questo è maschio. Femmina no. Non maschio. Ma esistono? Sì, a parte delle battute. Io l'altro giorno ero in un ristorante a Canemburro a Viale Mazzini e mi hanno dato le fettuccine con le telline. Sì. Il proprietario mi ha detto che nella natura le telline sono solo femmine. Sì, sono solo femmine. No, 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 no. Sì, 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 sì. Chiediamo se posso fare una domanda? Posso immortalarla anche? Allora, attenzione. Un piccolo sondaggio qui allo stabilimento Raloce. Io ho mangiato uno spaghetto alle telline. In natura le telline sono anche femmine? Cioè anche maschie? Chiappo. Penso di sì. No, pensa. Io avevo una domanda importante. Cioè, la tellina è femmina o maschio? Secondo me sì. Femmina. Secondo gli amici? Davide, ci sono telline femmine e maschi? Qua sì. Sì. Cioè, cosa sì? Sì. Sei contro l'uso, aspetta. Vai. Ci sono? Ci sono anche nella natura. Allora, siamo qui alla conclusione di questo cocktail cubano. Simone, vedi, eh? Ciao Simone. Simone, possiamo andare a immortalare il cugino di questo professionista che andremo a tolare anche venerdì e sabato, piazza Meucci Fashion Caffè, Fashion Bar? Questo sabato ci saremo. Allora, attenzione, possiamo togliere gli occhiali scuri? Sì. Per le amiche di YouTube. Ecco qua. Però devo dire... Un pensiero finale? Un pensiero per Silvio? Il cornudo. No. Aspetta, no, facciamo così. Devo fartelo. Gia di. Il cornudo. Emilio Fede, il cornudo. Allora, attenzione. Ecco i cocktail dalla madre. Ecco qui. Un applauso. Et voilà.